ciao a tutti oggi vi porto al roseto balistreri è il roseto che c'è nella mia città che è dedicato alla cantante di canto popolare rosa balistreri guardate che meraviglia sono tutte rose siccome c'è molto sole spero che non si tolgano i colori diciamo perché c'è una una distesa di colori di tutti i generi è dedicato alle rose e agli alberelli gli arbusti che fanno parte delle rose perché vi avevo girato un video il mese scorso soltanto che c'era non c'erano ancora le rose quindi ho aspettato per poter ritornare e farvi vedere proprio il panorama meraviglioso ci sono queste vasche a forma di stelle c'è anche di lì e poi c'è la fontana centrale c'è un odore ragazzi proprio meraviglioso giù in fondo c'è anche un parco giochi è una specie di piccolo anfiteatro per delle recite o per così farò giocare i bambini vi farò vedere poi anche gli alberelli guardate che meraviglia proprio un'immensità di colori sono tantissime centinaia di tipi di rose è un rosetto che è stato aperto con dopo mille mille difficoltà però il risultato è credo sia bellissimo qui c'è tutta la zona diciamo delle rose gialle meravigliosa questa e ripeto c'è un odore mamma mia non da questa guante guardate questa che meraviglia bellissima e poi ci sono addirittura gli alberelli con le rose bellissimo le nostre amate palme sono un po' dappertutto poi c'è questa un'altra vasca laterale insieme a quella più in là e poi si arriva all'anfiteatro quello di cui accennavo all'inizio e là c'è il parco giochi qua ci sono le ninfè guardate che belle giro e vi faccio vedere dall'altra parte queste sono le altre poi ce n'è una lì ora vi porto a vedere gli alberelli abbiamo superato il parco giochi e vi porto dalla parte dove ci sono gli arbusti sempre della famiglia delle rosace qui c'era un mandorlo in fiore quando appunto sono avuta la prima volta se riesco vi porto il vi metto da qualche parte qui nel video il mandorlo in fiore era molto molto bello ci sono tutti siamo sotto il livello del manto stradale tutto è salita se non cado giù vi faccio vedere tutta questa parte ovviamente per ogni per ogni alberello c'è la sua classificazione ad esempio questo è un melo guardate questo è un bellissimo mandorlo in fiore bellissimo è un bianco così forte molto bello questo andiamo è un nespolo d'inverno credo questo delle foglie che danno proprio sul rossiccio in questo parco giochi hanno fatto delle cose intelligenti perché questo materiale è gommoso in maniera tale che se qualche bambino cade diciamo non si fa poi così male siamo fatti anche un piccolo bagnetto perché è cambiato il vento praticamente la fontana ha buttato l'acqua verso di noi comunque io e Roseto Balistreri vi salutiamo spero di avervi fatto un po' di compagnia di avervi fatto conoscere una cosa qualcosa di carino della mia città alla prossima ciao 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 a tutti